buongiorno allora questa è la terza volta che registro sto benedetto gameplay e sinceramente mi sto anche un po' rompendo però comunque gli do l'ultima possibilità perchè Sony Vegas fa i capricci se comunque se non me lo prendo stavolta diciamo che cambio tranquillamente gioco anche perchè insomma Mario Kartez è bello far vedere il primo per come è nata questa serie però insomma io non è che sono proprio un fan sfegatato cioè lo gioco proprio la mia serie preferita quindi speriamo che stavolta me lo prenda e tra trovo anche vinto la mia volta cazzo vabbè non arriverò mai primo adesso va 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 vabbè comunque per chi non sa questo è Super Mario Kart che è uscito nel 92 su Super Nintendo e no 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 e niente basta cosa vuol dire su Mario Kart conoscono tutti Mario Kart spero buon quindi finisco qui il mio gameplay 9 farò vedere giusto giusto dai dai farò vedere giusto giusto un gran premio anche perchè no così farò vedere proprio un po' di piste insomma anche perchè tante piste no tante certe le hanno anche riproposte su e beh la stella è la prima o direi che ci sta sì certe piste le hanno anche riproposte su quello per Wii così le farò vedere anche come come erano insomma ma beh che sono uguali eh nooo fa tutto Luigi adesso vabbè è un'altra stella da primo adesso Luigi siccome deve arrivare secondo adesso lo vedrete sulla mappetta sotto che corre come un bastardo fino a superare il mondo eh no è arrivato terzo e siccome è arrivato terzo probabilmente adesso Yoshi sarà il mio avversario il mio avversario cioè comincerà a correre come un bastardo di Yoshi comunque sono arrivato prima eh 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 non sarei mai aspettato no la prima volta che ho registrato non è arrivato prima la seconda volta sono arrivato secondo sempre con Luigi che rompeva i coglioni tra l'altro ecco questa pista qua è l'anno anche riproposta su quello per Wii mi pare però una pista fantasma c'era di sicuro eh però però come si fa saltare di là solo Wii c'è la piuma su quella della Wii? non mi ricordo non mi ricordo niente tantissimo che non ci gioco anche perché online ci giocavo un pelo però cioè online si trovano quelli che usano Funky Kong che va tipo velocissimo non si può non si riesce a stare lì dietro quindi tanto vale io odio quelli che usano un personaggio perché è troppo forte cioè perché è più forte è giusto usare chi gli sta più simpatico dopo ovviamente se a quelli gli chiedi a chi è il tuo preferito loro risponderanno ovviamente Funky Kong però cioè perché è più forte no perché vabbè è meglio che sto zitto comunque penso che ne approfitterò che i compiti non possono passando sopra le cose non prendono niente nelle monete nei nei blocchetti nei jet e neanche di turbo quindi penso che ne approfitterò prendo di turbo se no ultimo giro dai che ce la faccio sì sì anche ieri ero arrivato primo nel primo che non prendo sono arrivato quarto quarto i punti sono distribuiti abbastanza col culo le uova le uova si il quarto prende un punto il terzo cosa prende tre punti il secondo sei punti il primo nove punti quinto invece se si arriva sotto la quinta sotto la quarta posizione si perde una vita perché ci sono tre vite e bisogna ripetere la pista praticamente le piste sono in tutto quattro gran premi miei cinque piste e cinque giri quindi quattro per cinque non so cosa fa questa pista la odio la odio la odio tutte quelle così le odio io volevo far vedere in realtà l'ultimo gran premi che colpite nessuno colpirò a me stesso dopo volevo far vedere l'ultimo gran premio così c'era anche la pista arcobaleno però sto giocando a difficoltà massima c'è l'ho sbloccata prima prima di registrare il primo gameplay e sto per avere un po' di competizione perché a 50 è proprio troppo facile a 100 beh a 100 ho fatto anche fatica sinceramente però volevo gioco sempre a difficoltà massima di solito quindi ho sbloccato la difficoltà massima e basta si a 150 ho provato a fare l'ultimo gran premio ma la prima pista è tipo così e non ce la faccio non so come facevo ma probabilmente questa Mario Kart è anche più difficile di tutti perché non è che se sei ultimo ti danno stelle e fulmini automatici come negli ultimi quindi la derapata anche non è che infatti era Yoshi che mi sta dietro la derapata non aiuta come come negli ultimi quindi non c'è tanto da cioè fai tipo un errore sei bene bene ma dai si perché praticamente tutti i nemici ma vai mamma tutti i nemici usano degli oggetti cioè non tutti ognuno usa tipo un oggetto e ognuno ha il suo Todd penso che hanno sfigato e non ha niente però gli altri tipo Donkey Kong usa le banane giustamente Koopa spara cusci verdi Bowser le palle di foco che avete visto prima che sono fastidiosi se muovono Peach spara dei funghetti anche questi fastidiosissimi perché diventi piccolo è come quando vieni colpito da un fulmine quindi diventi piccolo è più lento e ti possono anche schiacciare perdi un casino di tempo o giustamente Mario Luigi una stella e Yoshi invece spara le uova le uova le uova un quarto esattamente come ieri esattamente come ma va non ho ancora parlato delle monete perché le monete mi pare che le hanno eliminate nei Mario Kart successivi mentre io sono sicuro che l'ho visto in un filmato di Mario Kart per 3DS mi pare l'ho visto solo io non so e si vabbè non l'ho in più comunque al fine le monete servono per poco comunque cioè se si ma va fanculo cioè se ne sia a zero quando si va addosso a qualcuno si viene estorditi mentre penso che si va anche un po' più veloce se ne sia tante questa pista mi piace ma è un disastro anche anche a 100 ho fatto va che cazzo è Yoshi ho fatto una faticaccia a 100 per per finirla ce la farò mai va l'ottavo che mi sta dietro ma va lasciami passare no è un bel fulminetto ci sta ecco al primo giro finito cominciano a venire giusti ma gli ho visto zitto e niente il computer fa un giro giustamente per schivarle però io vai 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 si e mi ha guadagnato mezza posizione va quanto cazzo corrono i fulmini non farò la farli vedere perché sono ma ancora vabbè vabbè sono rarissimi i fulmini non anche perché si sdrummano i fulmini quindi te li danno gratis vai ancora secondo dai ti punti a Yoshi non ho neanche guardato Luigi è pieno di stelle Luigi prende tipo tre stelle come non è gli ultimi tre funghi tre stelle penso che sia culo questo anche se non so quanto può servirmi perché è pieno di curve le uova le uova non so ecco quando vado addosso io salto perché mi pare che mi mi da un po' più di mi fa perdere meno velocità mi pare vabbè vedo che li prendo con la stella muori ancora vabbè perché perché va benissimo le uova le uova va che fa mali non sono un uovo non è possibile niente invece muori tipo date via dai 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 qua non è arrivato quarto anche ieri no no che scala qui la siamo pari eh dai dai ce la si può fare ce la si può fare anche perché mi piacerebbe arrivare il primo perché sennò dopo anche perché non ho neanche la scusa che non non ci gioco da tanto perché ci ho giocato ieri ci ho giocato l'altro ieri ci ho giocato anche tre giorni fa perché c'è tre giorni fa ho sblocato la difficoltà ho poi registrato la prima volta ho poi registrato la seconda volta comunque sono sopra di un punto beh poco cambia eh cambia cambia un cazzo praticamente ho preso anche una vita vabbè la sporchinata sarebbe che tipo se se arriva prima di me io mi lascio ma basta Luigi cioè se lui se Yoshi arriva prima di me mi faccio give up e così ripeto il Gran Premio ma non è meno sporcato non mi interessa non la farò anche perché sono al video viene vabbè viene troppo lungo e vabbè qua c'è il turbo posso posso sfruttarlo mori Mario ma che guscio è tarocco dai dai vado quel cazzo eh Yoshi ma come fa questa pista l'hanno anche rifatta anche questa mi pare su forse si si perché è bellissima mi piace tantissimo sta musichetta beh mi piace tutto sto gioco dai il primo ovviamente è il preferito che è il primo semplicemente anche perché alla fine non è che si è cambiato tantissimo dagli ultimi beh giusto così perché era già divertente questo peccato che non si poteva giocare in 4 credo forse beh il multitapo c'era però non lo prendo mai non l'ultimo giro ah vabbè per fortuna sta volta colpisci si è colpita da sola con il suo funghetto di merda eh sì perché se l'è messa sopra praticamente vai corri Koopa non si sa perché qua ce ne sono un miliardo e mezzo in tutti i Super Mario premi sto cazzo di turbo però sì sto a posso usarlo vai 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 uova l'uova uova l'uova no vabbè primo dai concentrazione no 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 vabbè vabbè io volevo solo far vedere com'è ah 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 Si alla faccia cattiva Niente quel pallone esplodeva Anche se io lo sparavano con lo spumante L'arra proprio Facevano anche un giochino con lo spumante Tutto tranne bene insomma E vabbè insomma Io chiuderei anche qui con questo schifoso Secondo posto Spero che Sony Vegas se me lo Lo accetti stavolta Se no non lo disinstallo Perché mi serve E basta chiudo qua il play e vi saluto ciao